bella ragazzi a tutti e oggi oggi ragazzi giochiamo siamo contro e siamo contro il bohavista questa è la mia squadra come proctor come proctor Pessina, Verre, Traoré, Zyke, Duarte, Gordon, Dabo, Dalot, Sirigu e questi ne ho atti 24 Davison, Lion, Doha, Wilson, Johnson, Sheik, Stockton, Mite, Pinamonti, Jeff, Kossu, Semi, Pesac Hamilton, Virgo, Seva, Pase, Ciboiele, Leo, Lausano, Zemmura, Fausti, Soltedo e Caramont e noi scelgo questa maglia e quegli altri si mettono questa ok aspettate un attimo che metto una canzone e questo ma tanto, andiamo ok proctor, Gordon, non sia poi bianco, ok proctor come Gordon come pronto Psyche Verre, guardate, guardate il gol oh oh prova non ho dato un messaggio, lo cambiamo no 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 da boh tra vorrei però porterò anche su brawler no porterò anche brawler ok perché in questi giorni sto facendo DLS lo porterò anche dai passa allora ok allora che per scuola bisogna fare un blog e in inglese bisogna dire my name is Matteo bababababa devo ancora iniziare perché devo andare su da mia nonna per fare una roba su da mia nonna così no Paolo eh Paolo ma cioè non è che si è salvato ecco è da due giorni che ho ricominciato a pendere qua i video dopo ben quattro mesi dopo ben quattro mesi ovviamente l'ultimo che si è scritto era il motore 00 cioè lì a piccoli c'è lì a piccoli nooo ma perché sbaglio sti uovi ok fin il primo tempo 0-0 adesso mettiamo un'altra canzone mettiamo questa da si allora entra forti entra caramu ed entra mmmm ci questi qui no 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 dopo dopo ah ma ovviamente raga io per voi è da un mese che lo sto facendo sto scrivendo un libro cioè sì tipo un fumetto ecco ma un libro dove ho tutti i miei suoni tutte le robe personali e può darsi anche che lo pubblicherò ma non si sa tipo su amazon ecco nelle librerie ecco e io vi dico solo questo raga e lasciate 50 mi piace e può darsi che cioè devo ancora finirlo ma cioè che lo pubblicherò così almeno vai proctor mamma mia che gol ecco forse lo pubblicherò comunque anche un gangrò di proctor raga se entro lunedì arriviamo 20 like eh sì ho 20 like 20 iscritti e vi porterò una cosa speciale vi porterò una cosa speciale ecco io vi dico solo questo vai caramò vai caramò questo qua guarda guardate raga che velocità che ha caramò guardate vai qua me vai qua bè qua bè vai ok va 72esimo sub cronometro forte caramò caramò mamma mia calcio d'angolo vai vola lì vola lì uuuh eo mamma mia passo in ghiesero e vivo e' grosso per qua mi e' grosso per qua qua mi ma se non ci arriva qua mi si è vero fatto ecco quindi ragazzi se arriviamo a 20 iscritti entro lui lì e vi porterò una cosa speciale non vi spoilerò niente ma niente niente dai 4 minuti di recupero ok in tempo regolamentare non neanche fatto in tempo ok una partita siamo a sesti sesti perché ieri avevo finito la stagione ok ok va bene va bene suso suso non faccio un altro screen ok 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 sono però entro facendo l'ultima partita dopo 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 vediamo vediamo si va due arte hanno ripreso gli elementi di calcio roctor e come come mamma mia come come da distanza ci provano dunque raga eh io ehm no mi sta arrivando un nuovo microfono perché ne avevo preso uno la settimana scorsa ma non va tanto bene quindi adesso sono su omelette che faccio le live dopo se riesco e mando anche i link in descrizione qua sotto proctor vai ida vai hai la vai eh sì va no aia aia ma entendi ho regato tre mesi compio gli anni quindi tra tre mesi quindi 17 giugno compio 13 anni dopo tra un po devo iniziare anche la live fare anche un torneo creare un torneo su gta 5 però c'è ieri quando ho chiamato vincenzi provano di che giocavamo brawl su quell'altro mio account ma dopo abbiamo giocato c'è gta ci hanno mandato amicizia ma lui non è arrivato dopo io gli ho mandato amicizia lui non è arrivata quindi comunque come ha fatto quindi ecco dopo devo creare un torneo solo per gli abbonati no scherzavo tutti perché su omnet ragazzi ho più di 2000 iscritti passi aspetta un attimo un attimo aspetta un'eserata aspetta un attimo Siva. Sì. Siva. Lion. Attenzione. Sbaglia. Vadalo. Vadalo. Attenzione. Siva. Siva ancora. Pasaric. Zike. Com'è? Dietro. Siva. Siva. In fondo. Sono 9.47. Beh dai. Passato in presso. In presso. Ok. Va proctor. Va proche. Sul fondo. Attenzione. Ah. Intanto. Sto qua. Sto facendo una roba. Cioè. Sto per far partire la live. Dopo. Che ho chiuso. Questo video. E mi hanno scritto. Cioè. Devo ancora iniziarla. Cioè. Non è che mi vedo. Quindi. Alle 10. Devo iniziarla. Ma mi hanno scritto. Gioca ancora fortnite. Sì. Comunque. Anche. Leggo un po' la chat. Comunque. Ci sono più di. 200 spettatori. Hai ancora fortnite. Sì. Ce l'ho ancora. Bevi acqua. No. Perché. Di solito. Bevo sempre acqua. Aspetta. Eh. Aspetta. Aspetta. Sì. Va giallo. Ok. Mi ha appena fatto l'abbonamento. Ma dai. Ma regà. Grazie mille. Com'è. Grazie. Lodis. Grazie mille per l'abbonamento cromatico. Grazie mille. Fra. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie. Dopo anche su Omelette. Perché sto facendo su Omelette. Puoi anche donare. Che mi hanno anche donato ancora. Mamma mia Proctor. Vai Proctor. Proctor. Cosa è? Pasalee. Due minuti di scopro. Ma sarà. Cinque. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Ok. Finito. Let's go. Ok raga. Non ci becchiamo. Siamo quarti. GG. Siamo. No. No. Siamo tanti. No GG. Che tabade. Porca miseria. Ma che tabade. Dai. Maximovic. Ok. Perfetto. Qua c'è 65 minuti. Come sapeva bene. Arriviamo a 701. Perfetto. Ok. Raga. Non ci becchiamo. Da Proctor. No. In verità. Da Eric Sarah. È tutto. Non ci becchiamo mai. Ciao. Adesso inizio a live alle 10. Se volete. Primo link. In descrizione. Per entrare. Vediamo se riesco a metterlo. E noi ci becchiamo. Ciao. Sul mio secondo account. Trovatevi. Sotto il link in descrizione. Su Omelette. E anche su Game.TV. Ciao. Ciao.